Grazie a tutti, volevo ovviamente ringraziare Siemens e Platform per l'invito, per questa occasione di riflessione su un tema tanto attuale e contemporaneo come l'abitare contemporaneo e volevo cogliere l'occasione anche per ringraziare sia Platform che Siemens per lasciare la location a cui sono legato in maniera particolare perché credo 14-15 anni fa ormai quando ho iniziato a muovere i miei primi passi in questo mondo da stegista non ancora laureato, ho frequentato uno studio abbastanza noto della Bergamasca e uno dei progetti principali in cui mi sono imbattuto era quello di questo fantastico pod in vetro quindi per me è una situazione un po' particolare. Detto questo per tornare all'argomento, al tema della giornata io volevo introdurre una sesta parola, le cinque parole chiave della giornata che è il concetto di flessibilità che secondo me è legato in maniera molto stretta alla concezione di abitare contemporaneo almeno per come la vedo io che l'abitare contemporaneo sia soggetto a continue trasformazioni, a mutamenti è sotto gli occhi di tutti in realtà lo spazio abitativo è da sempre mutevole ogni epoca, ogni società l'ha trasformato in base alle proprie necessità in base alla propria cultura quello che è un po' differente negli ultimi decenni soprattutto nell'ultimo periodo di Covid è la velocità con cui questa trasformazione sta avvenendo ormai la trasformazione degli spazi dell'ambiente abitativo è vertiginosa a noi progettisti, a noi addetti del settore viene chiesto di dare risposte sempre più rapide, veloci, puntuali, efficienti alle nuove necessità che ogni giorno sorgono quindi ci viene chiesta una sorta di visione di quello che può essere una risposta alle necessità attuali ma già di prevedere quelle che saranno le necessità future almeno questo è quello che capita quotidianamente a me ormai è un metodo d'approccio progettuale abbastanza consolidato nel senso che ogni volta che mi trovo davanti a un nuovo progetto oltre ovviamente a concordare le prime linee guida le prime esigenze con il cliente che parte una sorta di ricerca personale sull'interpretazione degli spazi che gli spazi subiranno in futuro quindi mi trovo ad immaginare come potranno essere trasformati e vissuti gli spazi che vado a progettare nel futuro e mi accorgo che questa flessibilità determina la spazialità degli ambienti che vado a disegnare spazialità intesa appunto come interpretazione dello spazio nel futuro e non come spazio fino a se stesso e mi rendo sempre più conto che questa ricerca di spazi flessibili va a determinare la mia progettazione in vari modi in varie situazioni come per esempio il progetto per il quale sono stato chiamato da Platform e da Siemens per questa pubblicazione che è un appartamento che ho ristrutturato qua a Milano che fa della flessibilità una delle sue caratteristiche principali nonostante qua sembri l'aspetto estetico la sua caratteristica principale in realtà c'è stata una ricerca profonda che riguarda la flessibilità di questi spazi perché la committente tra l'altro era un personaggio abbastanza particolare un'imprenditrice che aveva delle abitudini abbastanza particolari questo è un piano sementerrato di un condominio qua di Milano degli anni 70 che originariamente era diviso in due unità infatti a due accessi e aveva una funzione di ufficio quello che mi è stato chiesto è di progettare uno spazio altamente flessibile quindi che potesse funzionare sia come unità complessiva unica quindi come un unico grande appartamento sia come due unità separate poi ci sono state richieste tipo che il soggiorno diventasse camera da letto quando era necessario e invece diventasse una grande sala per sessioni di yoga e di pilates quando invece non era necessario quindi diciamo che è stato un intervento abbastanza particolare la prima cosa che è stata fatta è ricavare un bagno ulteriore rispetto al primo in modo da servire con due bagni a ogni locale la seconda cosa è stata far sparire qualsiasi funzione non necessaria in un arredo disegnato su misura quindi sono stati progettati due letti a scomparsa integrati nell'arredo e c'è una cucina a scomparsa che quindi quando l'unità viene divisa in due parti e funziona in maniera indipendente diciamo che fornisce l'appartamento di sinistra e poi c'è questa porta che a scomparsa che divide o unisce l'ambiente quindi sembra un progetto che punta molto sul fattore estetico ma in realtà la caratteristica principale di questo progetto è la flessibilità è uno spazio che può essere usato in svariati modi per farvi un altro esempio di di come questo concetto influisca sul mio modo di progettare questo invece era un grande spazio di una di un'azienda di vini adesso non mi ricordo se fossero 350 400 metri quadri dove mi è stato chiesto di progettare uno spazio che potesse sopperire a svariate funzioni quindi dal da da uno spazio espositivo che coprisse tutto lo spazio dell'ambiente a aule di corsi di degustazione che a seconda del numero di persone si potessero adattare per non avere uno spazio enorme con 20 persone oppure anche a gestire tre eventi contemporaneamente quello che è stato fatto è stato creare un guscio di lamiera forata verniciata di nero che permettesse di creare un corridoio nella parte superiore di distribuzione e in questo guscio di lamiera verniciata sono state fatte sparire tre porte a scomparsa cioè tre portali che a seconda delle necessità dividono lo spazio in uno due o tre ambienti come possiamo vedere in questa immagine e anche questo è un esempio di come uno spazio possa essere flessibile e adattarsi allo scopo di quel momento quindi per concludere secondo me una delle grandi sfide che è la progettazione dell'ambiente abitativo ma anche e non solo sarà quella di creare spazi sempre più flessibili sempre più in grado di adattarsi alle necessità della committenza sia alle necessità presenti ma anche quelle future quindi cercare di avere una visione anche del futuro dello spazio spero di non avervi annoiato troppo vi ringrazio di creare di creare Grazie a tutti